Disoccupati all'opera per la manutenzione dei beni pubblici, inizia a dare i primi risultati visibili a Giuliano il progetto con i lavoratori APU, Attività di Pubblica Utilità. Le misure di politica attiva al lavoro gestite dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Poziello con il sostegno della regione Campania rientrano nell'ambito di azioni di sostegno al reddito per lavoratori che escono da percorsi di ammortizzatori sociali. Circa una trentina di persone a Giuliano da poche settimane sono impegnate nella cura del verde dei parchi pubblici. Interventi sono in corso in particolare alle aree esterne della villa comunale e nel parco di Viale dell'Acquario. Saranno impegnati per sei mesi con un'indennità di 580 euro al mese per un impegno di 20 ore settimanali. I lavoratori sperano che il progetto possa andare avanti anche oltre i mesi stabiliti. Una trentina di persone che abbiamo incominciato il giorno di San Pasquale il 17 mese scorso. Siamo qua, siamo orgogliosi di fare parte di questo progetto, sperando che sia la regione che il comune nello stesso tempo possa prolungare per altri sei mesi perché il nostro budget è di sei mesi per un totale di 580 euro mese. Sono anche persone non pratiche di questa situazione tipo come me, però sono orgoglioso di farlo. Faccio vedere anche le cicatrici del lavoro e sono contento di fare questo. Mi trovo bene con loro, sperando solo che fra sei mesi potremmo essere ancora utili maggiormente alla situazione e non andarcene a casa, questa è una cosa che ci dispiacerebbe molto. Che non si fermi e che almeno noi che siamo un po' quanzianotti, incominciando da me, potremmo andare fino alla pensione e stare in grazia di Dio e dare poi spazi a loro più giovani di me.